Il cammino è lungo, la consapevolezza che servirà a tempo non manca, anzi è il punto di partenza del percorso che il nuovo Volei Modena vuole fare partendo dalla Serie B1. Il sogno è quello di scalare le categorie e riportare la pallavolo femminile giallo-blu nell'elite della scena italiana. Le fondamenta del nuovo club, che eredita da Armando Montanini la storica società giallo-blu, le ha messe consolidando in primis la struttura dirigenziale e tecnica con gli ingressi di Francesca Ferretti, Barbara Fontanesi e Alessandro Guazzaloca. Abbiamo fatto una pazzia, chiamiamola così, quest'anno. Abbiamo fatto ripartire il Volei Modena, una società che tutti conosciamo, storica, eccetera, eccetera. Abbiamo messo insieme, credo, un gruppo dirigenziale di altissimo livello e poi dopo proviamo a fare questa ripartenza, chiamiamola così. Abbiamo messo delle basi importantissime a livello societario, vogliamo strutturare le tre cose che sono la società, le ragazze, dobbiamo strutturarci a livello economico. I piedi sono ben saldi a terra, l'obiettivo sportivo numero uno è quello di portare a casa prima possibile la permanenza in B1, in una stagione che si aprirà l'8 ottobre al Guarini contro l'Altino Volley. La squadra è stata composta da ragazze che comunque, giovani, che comunque arrivano da settori giornali importanti e da ragazze esperte. Questo mix, secondo me, è la ricetta giusta per ottenere quello che è il nostro obiettivo. La salvezza, però man mano che affronteremo le partite e vediamo i risultati che arrivano, magari siamo in grado anche di alzare la sticella per fare un campionato un po' più importante rispetto alla salvezza.